Clizia in curvaia incinta. Non si tratta di un rumor, ma di un annuncio ufficiale. La modella 40enne Paolo Ciavarro, 29 anni, aspettano il loro primo figlio insieme. Come hanno fatto sapere attraverso un'intervista rilasciata al settimanale Gente. Clizia, che ha già una bambina di 6 anni, Nina, avuta con l'ex marito Francesco Sarcina. E intorno al quarto mese di gravidanza. Il piccolo, o la piccola, nascerà quindi tra febbraio e marzo del prossimo anno. Per la incorvaia l'inizio della dolce attesa non è stato semplicissimo. Stavo sempre a letto e quando mi alzavo avvertivo nausee. Mal di testa, un senso di spossatezza, quasi di vertigini, ha fatto sapere al magazine. Paolo però si è dato molto da fare ed è stato un complice perfetto. Il progetto di creare una famiglia era in piedi dal primo momento. Desideravamo da tempo un figlio. A dire il vero è stato uno dei primi argomenti che abbiamo affrontato, ancora prima che ci mettessimo insieme. Paolo spesso diceva, la prossima donna che avrò sarà la madre dei miei figli. Perché in lui è forte il desiderio di paternità, ha aggiunto la bellezza di origini siciliane. I due hanno anche rivelato che il concepimento è avvenuto durante una vacanza a Lampedusa. Paolo inoltre spera che sia un maschio perché gli piacerebbe accompagnarlo sui campi di calcio. Sui nomi sembra esserci già una certa chiarezza, a lei piacerebbe Daphne, nel caso di una bambina. Se dovesse arrivare il maschietto, sceglierebbe Paolo. È molto probabile che in quel caso si chiamerà Leonardo o Gabriele. La bionda e il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ormai da tempo convivono al centro di Roma. La loro relazione è nata durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip nel 2020 e il prossimo 8 febbraio festeggeranno due anni di relazione. E poco dopo diventeremo genitori, hanno fatto sapere con grande entusiasmo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.